Benvenuti a un altro appuntamento con in compagnia del professore Ernesto Borghi, coordinatore della formazione biblica della diocesi di Lugano, docente di sacra scrittura e presidente soprattutto dell'ABSI, l'associazione biblica della Svizzera italiana. Benvenuto professore sul canale youtube di cat.ch Grazie della sua accoglienza, un saluto a tutti. Abbiamo cominciato questo percorso che ci pone diverse domande molto profonde che hanno un legame con l'attualità e con le sacre scritture. Oggi una domanda quanto mai di attualità, amare i nemici perché? Se mi permette professore, prima di fare un passo all'interno delle sacre scritture vorrei fare una piccola introduzione. È stato un periodo, è un periodo di grande difficoltà in cui molta solidarietà è venuta fuori, è emersa, c'è stata molta unione tra le persone, ma d'altra parte mettere le mascherine, il cosiddetto distanziamento sociale, che forse preferirei chiamarlo distanziamento fisico, perché di sociale distanziamento speriamo che non ce ne sia mai, ci hanno fatto vedere con diffidenza l'altro. Ma noi, nelle sacre scritture almeno con il professore, riusciamo a trovare una radice profonda per la quale, anche se non è un nostro nemico, ma riusciamo comunque ad amarlo. Certamente il tema è di enorme difficoltà. Nel testi neotestamentare, in particolare nei testi evangelici, il tema dell'amore ai nemici è assolutamente fondamentale. Lo troviamo negli versi da 38 a 47-48 di Matteo 5, laddove si parla prima del porgere l'altra guancia rettamente inteso, cioè non come una sorta di autolesionismo, ma come la volontà di rompere la logica di offesa di un nemico per cambiare orizzonte, cambiare prospettiva, per rendere i rapporti su un altro livello, un livello molto più positivo. E l'affermazione successiva riguarda appunto l'amore per i nemici e ancora di più la preghiera per i persecutori. Allora, nessuno sano di mente può dire che siano prospettive facili, che siano immediatamente praticabili nella nostra vita e che soprattutto siano praticabili in modo continuativo. Però cercare di vivere ad immagine e somiglianza del Nazareno crocifisso risorto significa perlomeno prendere in considerazione quest'ipotesi vedendo che i testi evangelici non cambiano i termini, i nemici sono nemici, coloro che sono ostili sono ostili, ma in una prospettiva in cui occorre cercare di andare al di là di questa logica. Ripeto ancora una volta, rompendo la prospettiva dell'occhio per occhio, dente per dente, rompendo una prospettiva che sia il rendere il male quando si è ricevuto il male. Lei pensa che questa situazione di emergenza abbia scambiato individualità e individualismo come termini? Credo che la risposta non sia facile, anche perché certamente abbiamo assistito a encomiabili dimostrazioni di solidarietà, di apertura, di vicinanza, ma io non sarei così sicuro che una volta superata questa situazione di emergenza non si corre il rischio di tornare a situazioni per tanti aspetti peggiori di prima. Per cui bisognerà vigilare con la massima attenzione sia per quel che riguarda il rapporto con la natura, con l'ambiente in cui siamo inseriti, penso a tutto quello che è il grande dibattito suscitato da Greta Thunberg e dai movimenti planetari a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi sia un'attenzione a quelli che sono i diritti dal punto di vista del lavoro, i diritti dal punto di vista dell'attenzione alle fasce della popolazione più sfavorite e più deboli. Credo che queste siano attenzioni che dobbiamo cercare di tenere le più alte possibili proprio perché questa tragedia di carattere planetario possa aiutare noi a immaginare dei modelli di vita che siano migliori di quelli che seguivamo prima di questa vicenda. Chi pensa che identificare un nemico, in questo senso anche facendo riferimento alle Sacre Scritture, riesca in quanto meno a unire gli altri, quelli che considerano un nemico, quindi a creare una coesione? In sostanza c'è bisogno sempre di un nemico? Noi dobbiamo cercare di fare in modo che l'unico nemico in questo caso sia il virus, cioè che non ci siano ragioni per le quali dobbiamo, come purtroppo in varie parti del mondo vari uomini politici stanno facendo, per trovare in ogni caso un nemico che sia una specie di capro espiatorio sul quale concentrare le responsabilità che non di rado sono proprio le responsabilità dei politici, degli esseri umani pubblici che si muovono in questa prospettiva. Allora io penso che noi dobbiamo cercare di superare questa logica, dobbiamo cercare di non arroccarci, né da un punto di vista culturale, né da un punto di vista religioso, pensando di avere chissà quali verità automatiche e assolutamente a portata di mano, ma costruire delle relazioni con gli altri in cui davvero l'altro visto come non anzitutto un avversario o un nemico, ma come una persona con cui si può costruire una convivenza diversa e migliore sia un obiettivo fondamentale dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Grazie professore per questo altro contributo, qui sotto il contributo del professore Ernesto Borghi trovate tutti i riferimenti per andare ad approfondire l'argomento, restiamo a disposizione per tutte le domande e per tutti i commenti che vorrete porre su questa questione. Grazie professore e alla prossima puntata. Grazie a lei, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato sinora.